L'Istituto Brunelleschi da Vinci di Frosinone ha ospitato un'importante iniziativa sul tema degli appalti pubblici, il precariato, la legalità negli ambienti di lavoro e la trasparenza negli appalti pubblici, al centro del convegno organizzato dalla Filcams CGL di Frosinone Latina e che ha visto la partecipazione del sottosegretario del MIUR, Giuseppe De Cristofaro. Questa mattina abbiamo fatto un'importante iniziativa presso l'Istituto Brunelleschi, siamo stati ospedati dalla dirigente dottoressa Monica Fontana per parlare di appalti scolastici, ma appalti anche più in generali, per parlare di cosa succede dentro gli appalti con la precarizzazione che sta avvenendo, ma anche con la molta illegalità che ogni volta in un cambio appalto avviene. In questo caso specifico parliamo di quasi mille lavoratrici, quasi tutte donne, che tra Latina e Frosinone hanno subito per ben 24 mesi il mancato pagamento dello stipendio e hanno comunque continuato a lavorare anche senza percepire nessun tipo di salario. Finalmente, grazie all'intervento del governo, in particolare del sottosegretario De Cristofaro, che stamattina era presente all'iniziativa, e il primo marzo erano internalizzate completamente all'interno delle scuole. E quindi finirà tutta questa situazione legata agli appalti, appalti che erano veramente diventati qualcosa di drammatico. Quindi un grande risultato, grazie ad un'azione a sistema, a rete, che abbiamo fatto con istituzioni, sindacati, associazioni, con le scuole. E quindi un risultato che ci ha visto premiare, grazie a tantissimi lavoratori che non hanno mai smesso di lottare per avere i propri diritti.